I libri insegnano a comprendere il mondo, ad approfondire, a riflettere, a pensare. In terra d'Abruzzo nasce un concorso letterario riservato non agli scrittori, bensì ai lettori, che dovranno possedere qualità nell'illustrare contenuti, originalità e capacità di emozionare e di comunicare idee e valori rappresentati nei volumi assegnati dalla giuria, uno per ciascuna delle quattro sezioni, del premio Lector in terra lecti, quintino festival dei lettori, alle falde della Maiella, nel cuore del bacino minerario. L'iniziativa è promossa dal parlamentare abruzzese Luciano D'Alfonso, in memoria del padre Quintino, recentemente scomparso, ed è realizzata in collaborazione con l'Officina del Deputato, l'Associazione UB, la Fondazione Europa Prossima e l'Associazione Pietrara Conviviale. I presidenti di queste ultime, Marco Presutti ed Ornella di Pietrantonio, hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione, insieme all'assessore comunale di Letto Manoppello, Luciana Conte, alla dirigente scolastica Angela Pizzi e alla docente Silvia Elena Didonato. Ho sempre visto premi per il gigantesco risultato raggiunto da chi ha scritto, quindi per il libro, ma non ho visto generosità nel valorizzare quanto significato ha la lettura e il lettore. Se De Gasperi tornasse, io potessi suggerire a De Gasperi che cosa dire all'Assemblea dell'ONU, direi proviamo a fare gli italiani, gli abruzzesi, i pescaresi, tutti volenterosi rispetto alla lettura. La lettura consente mappa cognitiva, cittadinanza autentica. Arrivo a dire che serve pure all'Europa migliore. Avremmo meno guerre se tutti leggessero e se tutti si facessero un'opinione. La giuria si esprimerà su come gli studenti delle scuole medie e partecipanti presenteranno il libro La Montagna Capovolta di Francesca Lamantia, gli studenti delle scuole superiori, il volume L'Isola di Arturo di Elsa Morante, gli studenti universitari Il Gatto Pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e gli saggi, gli over 60, Vita, Morte e Miracoli di Bonfiglio Liborio di Remo Rapino. La cerimonia di premiazione si terrà a letto manoppello il prossimo 16 settembre. Per ciascuna categoria il primo classificato riceverà 1.000 euro, il secondo 600 euro e il terzo 300. Per iscriversi è necessario inviare, entro e non oltre il 31 agosto prossimo, una domanda di partecipazione all'indirizzo di posta elettronica lettoriinteralecti-gmail.com, allegando anche il documento d'identità.